weh non fare il pollo da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio nuovo codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci xiu derone daie bella a tutti ragazzi e benvenuti allo mio nuovo video io sono xiu derone e ragazzi parliamo dello standardo segreto della settimana numero 10 l'ultima di questa season numero 7 di fortnite come vedete alle mie spalle c'è già il nuovo la nuova schermata di caricamento e forse agli occhi più attenti sarà già apparso lo standardo imboscato se ancora non lo avete visto ragazzi voglio farvelo vedere eccolo proprio la vicino all'alberello zoomiamolo che così lo vedete meglio ragazzi come notate sotto l'albero c'è lo standardo e allora dov'è questo standardo cerchiamo di capire il punto esatto beh ragazzi come vedete sono vicino alla pista quella asfaltata nella parte più a destra della mappa e l'albero che ci interessa è proprio questo qui ragazzi eccolo qua lo standardo segreto della settimana numero 10 non appena avrete terminato tutte le sfide apparirà proprio ai piedi di questo albero spero che abbiate capito dove sono vi faccio vedere nella mappa eccoci qua io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un bel like se vi è piaciuto supportatemi col codice creator xiu derone noi ci vediamo presto ciao